Cari fratelli e sorelle recitiamo insieme anche oggi la novena della medaglia miracolosa in attesa della grande festa del 27 novembre. La devozione alla madonna della medaglia miracolosa è una tradizione della chiesa che porta benefici nel cuore, nelle famiglie, in tutta la società. Benvenuti e bentornati nel nostro canale youtube della redazione papa boys vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. La preghiera della novena alla madonna della medaglia miracolosa oggi è il settimo giorno prepariamoci con alcuni secondi di raccoglimento prima di iniziare e chiediamo una grazia a Maria. Recitiamo la novena alla madonna della medaglia miracolosa in comunione con i fratelli e le sorelle del santuario della vergine del silenzio ad Avezzano in Abruzzo ed anche con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. nel nome del padre del figlio e dello spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O vergine immacolata della medaglia miracolosa che mossa a pietà delle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie. Muoviti a pietà della presente nostra necessità. Consola la nostra afflizione e concedici le grazie che ti domandiamo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve a te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O vergine immacolata della medaglia miracolosa. Che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono? Ci hai portato la tua medaglia affinché fosse difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri? Ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve a te ricorriamo esuri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O vergine immacolata della medaglia miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Recitiamo tre gloria insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, gloria al Padre e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vergine Santa della medaglia miracolosa, prega per noi. Vergine Santa della medaglia miracolosa, prega per noi. Amen. 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 Alleluia. Concludiamo con questa invocazione. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. grazie cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia sapendo che dio è sempre con voi e l'intercessione del cielo per le nostre necessità non ci abbandona mai vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza e che necessitano di guarigione fisica e spirituale la fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera la nostra fede ed anche far crescere il canale arrivederci a tutti al prossimo video insieme nel canale youtube della redazione papa boys dio ci benedica e la madonna della medaglia miracolosa ci conceda la grazia che le chiediamo a domani